un caro saluto a tutti gli amici del premio internazionale fair play menarini voglio augurarvi una splendida festa dopo un periodo tutt'altro che facile questa serata non poteva che svolgersi per testimoniare i veri valori dello sport oggi più che mai è necessario far nostre gli insegnamenti dello sport rialzarsi dopo una sconfitta una caduta combattere con lealtà per un obiettivo comune fare squadra e sempre nel rispetto dell'altro il tutto con tanta positività e speranza che dopo un momento negativo si può ripartire più forti di prima infine mi congratulo con i premiati per il prestigioso riconoscimento buona serata a tutti